Amici da SoftLibre Open Source, benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Un video dedicato alla mia non recensione di ElementalOS 8. L'ottava incarnazione di ElementalOS, una derivata di Ubuntu, che un tempo era un po' considerata un fan prodigio delle derivate di Ubuntu. Era una delle distribuzioni su cui noi utenti curiosi di provare, noi distribuzioni eravamo più appassionati. Io ero uno dei fanboy di ElementalOS, poi nel corso degli anni l'ho provata, ho continuato a riprovare da ogni nuova versione della distribuzione, poi fra bug e alcune scelte progettuali che non digerisco particolarmente, alla fine l'ho allontanata. Però, come potete vedere, anche con questa nuova incarnazione, mi è tornata la scimmia sulle spalle e ho detto «Prova la prova la prova a me nel macchina virtuale». Fai sapere un po' ai lettori che cosa ne pensi di questa distribuzione. Per chi non lo conoscesse, il progetto Elementari praticamente nasce come, di fatto, un tema di icone più un tema GTK. La sviluppatrice di Elementari, del progetto Elementari, Daniel Forè, ha iniziato, tanti anni fa, a sviluppare questo tema di icone, questo tema GTK. Andava per la maggiora che tutti quanti volevano installarlo. Tant'è vero che poi il tema di icone è rimasto anche su diverse distribuzioni, il tema Elementari. Ci sono stati diversi fork dei temi. Anche io ho mantenuto per un po' di tempo un fork del tema di Elementari che avevo realizzato, avevo caricato, avevo stato su Gnome Look. Successivamente la sviluppatrice ha deciso di fare una scelta molto coraggiosa, ovvero quella di partire dagli elementi design che aveva dato, le linee guida di design che aveva dato per lo sviluppo del tema, del tema GTK e del tema di icone, ha deciso di fare qualcosa di più grande. e ha deciso di costruire un intero desktop environment chiamato Pantheon per portare avanti questo suo progetto di un Linux diverso, di un Linux bello da vedere. E ci è riuscita, diciamo così, nel corso degli anni a perfezionare sempre di più l'aspetto di Elementari. Prima, vi dicevo, c'è stato questo reposito raggiuntivo per Ubuntu. Era un reposito un po' particolare perché andava a patchare un casino di roba all'interno del sistema e poi la sviluppatrice ha deciso di fare il grande salto e di farsi una distro fatta in casa, quindi di fare una derivata di Ubuntu in tira praticamente, senza più appoggiarsi soltanto ai repositori. Ed è qui che è nata ElementariOS. Ci sono state poi varie incarnazioni, varie evoluzioni del sistema, però diciamo che l'aspetto di base, l'aspetto grafico, è rimasto presso poco invariato nel corso degli anni. Questa nuova versione, la 8.0, va a introdurre il supporto a Wayland, va a fare delle modifiche nella gestione delle applicazioni in formato flat pack, va a rifinire ulteriormente tutti quanti quegli strumenti di accessibilità che sono integrati all'interno della distro, insomma, va a perfezionare il tutto. Vedremo in questo video che ci sono alcuni bug nella macchina virtuale, in realtà questa non è un'impressione a caldo, ma è un'impressione a caldo cioc 5, cioc 6, perché oggi sto registrando una serie di video dedicati a Elementari e questo video l'ho dovuto registrare tante di quelle volte che ormai ho perso il conto, perché la macchina virtuale mi si bug, mi muore in continuazione. Speriamo che questa sia la volta buona. Avviamo la nostra bella macchina virtuale, così facciamo un tour della distribuzione e andiamo a vedere quali sono le caratteristiche di questa distribuzione e come funziona l'istaglio, insomma, se avete abituati alle mie non recensioni di distribuzioni. Allora, gli andiamo a dare la ISO, come potete vedere, qua ci sono alcuni chack precedenti, altri li ho cancellati addirittura, per non farvi spaventare, i tentativi di registrare questa non recensione. Ah, Elementari esce, vabbè, esce la quinta giù, basiamoci su .24.04 e andiamo su sicuro. Andiamogli a dare un po' di più di RAM, altrimenti questa ci si impalla senza motivo, sono pure 7, va, crepica palizia. E avviamo il tutto. Ok, vi dicevo, io in un tempo passato ho amato questa distribuzione, poi ci sono alcune scelte progettuali che non mi piacciono, una su tutte, sapete, e il mio cruccio nel corso degli anni è quella della mancanza di integrazione con indicatori di terze parti, però almeno qui lo sviluppatore di ElementariOS mi ha risposto, una volta su Twitter mi ha spiegato il perché non vengono integrati all'interno del sistema gli indicatori di terza parte e mi ha dato una spiegazione, fatta spiegazione, quindi una spiegazione tecnica dal punto di vista di design e quant'altro. Ed è una cosa che apprezzo, a me no, qui mi è stata data una giustificazione, non come quelli di Gnome che non hanno integrato il tutto perché gli pesava andare a fare l'integrazione, vabbè. Polemica a parte verso Gnome che devo farcelo sempre in ogni video, lo sapete. Allora, avviamo l'installazione di ElementariOS. Andiamo a selezionarci la lingua. Allora, qui è la prima cosa che, la prima particolarità della distribuzione, come avete sentito, c'è l'assistente vocale Orca C all'installazione, nel primo avvio dell'installazione di ElementariOS 8, sentiamo una voce che ci spiega quale è la shortcut della scorciatoia per andare a abilitare Orca per guidarci durante l'installazione. Quindi, GG per il team di ElementariOS che ha pensato di fare una delle cose leggerne direttamente nell'installare. Adesso andiamo a darci la nostra tastiera, quella mia, internazionale. Dove sta? Internet User, ecco qua, con tasti muti. Qui abbiamo le tre opzioni. Prova la modalità demo di Elementari, installa, oppure installare avanzato. Andiamo a fare l'installare automatico e qui c'è la prima faccina triste della distribuzione. Ci avvise che alcune parti di ElementariOS 8 potrebbero andare sui, lentamente, potrebbero verificarsi freezer, qualcosa potrebbe non funzionare perché stiamo su macchina virtuale. e questo fatto ancora non lo risolvono. Qui selezioniamo il disco. Questa è una cosa vecchia di ElementariOS. Qui possiamo attivare la criptazione del disco, scegliamo di non farlo e qui ci dice se vogliamo installare dei driver proprietari, se vogliamo includere dei driver proprietari in video, Brodicom e quant'altro. E avviamo l'installazione. Qui è un'installazione classica, l'installazione dei file, aspettiamo che finisca l'installazione. Non ve lo metto a tutto schermo durante la fase di installazione perché uno dei 4-5 volte mi si è bloccata la registrazione proprio perché ho messo a tutto schermo l'installazione del sistema nella macchina virtuale. Mi si crascia l'installer. Quindi lo lasciamo così, lo facciamo fare, lo guardiamo. Attentamente io non lo metto manco in pausa sul registratore, altrimenti questo si imparga perché si imparga solo a guardare l'installer sulla macchina virtuale. Aspettiamo che finisce il tutto. Nel frattempo vi dico qualche cosina su qualche aneddoto su Elemental S. Io questa praticamente l'ho installata per diverso tempo sulla mia macchina. Però la precedente release mi ha dato sempre problemi per quanto riguarda i driver Nvidia. È stata sempre un problema l'installazione tant'è vero che l'ho abbandonata, l'ho smessa di seguire con la precedente rilascio. Di solito appena viene rilascio l'ho lasciata, la installo, poi la installo dopo un po' per vedere un po' a che punto sono gli aggiornamenti quelli che vengono fatti di volta in volta, con i mesi, con Elemental che non ci sono riuscito con la precedente rilascio perché appunto mi va, mi dava problemi enormi con i driver Nvidia proprietari. Addirittura lo schermo mi usciva tutto viola fucsia. È una cosa assurda. È una cosa assurda. Vabbè, scemo io che, come sapete, continuo ad ostinarmi a comprare hardware Nvidia e utilizzare Linux. Questo è anche vero. Però, dovrebbero fare anche loro qualcosa. Ok, l'installazione è completata. Continua la configurazione. Qui ci avvisa che, dopo il riavvio, possiamo configurare il nuovo utente. c'è anche Countdown che ci avvisa che il dispositivo si riavvierà automaticamente se noi non piggiamo niente. Noi facciamo quello forzato e facciamo riavvio. Senza che ci sta a mettere anni a fare il tutto. Ovviamente la macchina virtuale non parte. Dobbiamo riavviare noi. Facciamo partire la macchina virtuale. E qua c'è quello scherzetto che la prima volta mi sono mi sono spaventato. Vi chiede nuovamente in fase di posto di installazione di inserire lingua. Questa non l'ho capita questa scelta perché se gliel'ho data prima in fase di installazione ma la devi mantenere. No, che mi chiedi nuovamente lingua e mi chiedi nuovamente la disposizione della tastiera. Per essere sei davvero sicuro di quello che hai detto prima? Ok. Adesso possiamo andare a impostare il nostro account utente ci mettiamo il nome mettiamo una password super difficile 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 che dice la password è più corta di 8 caratteri. Eh sì, beh, beh, beh lo so che è più corta di 8 caratteri però però mi fai andare avanti ecco, sicurezza un po' scarse sotto questo punto di vista. Cioè, te lo dico è una password di merda ti faccio fare quello che vuoi. che succede? Ok, adesso è partito. Qui possiamo mettere adesso tutto schermo non dovrebbe crashare nulla. ok, è partito. Welcome Screen allora che cosa ci dice? Qui ci rimanda il sito internet la guida e base e quant'altro andiamo avanti pop up avete visto il pop up avete sentito anche la notifica audio questi sono i pop up come si comporta adesso è davvero carina l'integrazione del sistema i pop up così mi piacciono un casino qui possiamo personalizzare il nostro aspetto quindi tema predefinito il tema scuro e il tema quello che cambia a seconda dell'ora del giorno lasciamo quello predefinito qui è possibile modificare i colori degli accenti quindi come potete vedere vanno a cambiare soltanto le selezioni però non cambiano le icone le icone sono sempre le stesse vabbè lasciamo il default e andiamo avanti luce notturna quindi anche questo pantheon anche il desktop environment di elementary ha il supporto alla funzionalità di luce notturna e ci possiamo anche regolare la programmazione e la temperatura carina questa cosa all'interno del sistema manutenzione può fare una manutenzione del sistema automatico quindi ci dice che cosa vogliamo che ci cancellino automatico vecchi file temporane i screenshot il cestino file scaricati non ho capito perché ci mette l'opzione per scaricare i file scaricati per cancellare in automatico i file scaricati perché io devo cancellare i file scaricati oh misti perché lo devo fare in automatico magari mi servono magari metto quello del cestino degli screenshot ma non il resto account online qui è possibile utilizzare mail calendar task con un account online quindi possiamo connettere i nostri account online quali sono ok in cliente di bosta vabbè ci possiamo configurare quelli andiamo avanti ottieni delle applicazioni possiamo ottenere applicazioni dall'app center oppure fare il side road delle applicazioni in fact pack da store alternativi facciamo il side road di applicazioni alternativi ok vabbè qui possiamo selezionare possiamo vedere che cosa fa qui possiamo scegliere come fare l'installazione degli aggiornamenti quindi se fare quelli automatici possiamo anche selezionare questi qua di sistema perché a meno automatizziamo il tutto iniziamo allora questo è pantheon questo è elementari os così come si presenta al primo avvio abbiamo un pannello superiore impostato in modalità trasparente e una dock in basso quindi un look all'ame coes diciamo così in alto a sinistra troviamo le applicazioni e questo è il lanciatore applicazioni che può essere disposto sia così come vedete con l'icone così o altrimenti con la visualizzazione per categorie una visualizzazione per categorie orrendo è su una distribuzione che fa del design nel suo fiorecocchiello mi sembra un po' da rivedere vabbè però non è utile perché ci fa vedere le varie sezioni allora qui possiamo cercare un'applicazione che non abbiamo praticamente nulla installato eh sì vabbè poi vedremo più avanti quali sono le applicazioni che compongono il pantheon di anzi no prima di passare le applicazioni che compongono il pantheon di pantheon vediamo che cosa come si comporta quali sono gli elementi grafici del sistema operativo qui al centro abbiamo data e calendario quindi e orario quindi classica alla gnome diciamo così e in alto a destra abbiamo gli indicatori quindi abbiamo un indicatore della musica dell'audio quindi dove possiamo regolare il volume vediamo se funziona ok funziona anche lo scorrimento con la connella del mouse per abbassare e alzare il volume perfetto che windows ci è arrivata ancora dopo anni e anni e anni adesso la rete impostazione di rete possibilità di attivare anche la modalità aeroplano e quelle notifiche abbiamo la possibilità anche di attivare non disturbare le notifiche pulire le notifiche presenti andare a personare a personalizzare le notifiche e poi che cos'è questo tastino questo è il tastino che ci rimanda che ci rimanda al lettore di schermo lettore schermo attivo frame lettore di schermo lettore schermo disattivato tastiera a schermo che ci attiva la tastiera a schermo che non ve l'attivo perché mi ha fatto grassiare per due volte la registrazione questa cosa e la possibilità di attivare la modalità dark fidatevi esiste la tastiera a schermo quindi se vi interessa qui possiamo aumentare o diminuire le dimensioni del carattere dell'interfaccia vediamo aumenta anche le dimensioni del file manager sì di tutto perfetto un bello così ok ripetiamo quelle di default no no troppo piccolo così ok stava così e poi abbiamo i tastini le scorciatoie per impostazioni per sospensione chiusa di sessione riavvia e quant'altro in basso come potete vedere troviamo una doc con una serie di applicazioni pinnate che sono le applicazioni quelle che ci si aspetta siano più di uso comune abbiamo come prima cosa la panoramica delle la panoramica delle applicazioni degli spazi di lavoro il file manager file manager che non offre tante personalizzazioni è un file manager molto elementare scusatemi la battuta sulla sinistra troviamo i segnalibili con le scorciatoie praticamente documenti musica immagine e quant'altro i dispositivi di storage i dischi montati e possiamo anche montare dischi di rete quindi facciamo connect server e qui possiamo montare i nostri dischi ftp ssh condivisione windows webdav e chi più ne ha più ne mette quindi bello che comunque ha le cose essenziali quelle cose utili vediamo come si comporta con il doppio click non ha il doppio click ma ha il click singolo preimpostato per l'apertura delle cartelle per invece selezionare una cartella dobbiamo cliccare sul baffetto di ok questa cosa però è modificabile andando nelle impostazioni andiamo nelle impostazioni come possiamo vedere e troviamo la voce double click to navigate quindi attivando questa voce attiveremo il doppio click per la navigazione nelle cartelle e che è un comportamento che io preferisco rispetto agli altri ma che fa ti apri le cartelle tutte quelle delle cartelle ah bello figo questo è chiusa questa qua music è chiusa adesso torniamo indietro e la troviamo riaperta e se chiude riapro ah la ritroviamo richiusa ah figo questa cosa si ci fa vedere anche quali sono le cartelle che noi siamo andati ad aprire durante la sessione di navigazione con file manager bella sta cosa vedete piccole chicche che hanno introdotto che sono carine qui che cos'è oltre a quello che cosa possiamo fare possiamo aumentare lo zoom possiamo scegliere di mostrare le cartelle prima dei file restore tabs from last time abitazione con la scorciatoia contro l'acqua oppure spuntando qui la voce dei file nascosti e qui possiamo scegliere se visualizzare o no le thumbnails locali e quelle remote quindi se facciamo uno screenshot vediamo un attimo come si comporta ok se io gli dico di non visualizzare ok non viene visualizzata viene visualizzata un'icona generica perfetto è bella questa cosa qua qui in alto a sinistra troviamo visualizzarsi una griglia visualizzazione come lista e visualizzazione questa qui in colonne alla mac os diciamo così il file manager di mac os ha di default questa cosa ma no nelle vecchie versioni io infatti è una cosa che odio tantissimo che cosa abbiamo più abbiamo qui la possibilità di avere i tab quindi per avere diverse schede e qui il percorso ok è editabile per andare rapidamente nelle cartelle proprietà che cosa ci fa vedere niente le autorizzazioni personalizzazione delle cartelle che cosa fa questa se non ah possiamo anche mettere un un colore alle cartelle in modo tale da ritrovare più facilmente è bella questa cosa qua mi piace abbiamo anche le cose classiche come inverti la selezione vabbè mi piace il file manager di elementare mi piace che cosa abbiamo più abbiamo il browser web che è un browser web il browser web predefinito vediamo quali sono le caratteristiche di questo browser web innanzitutto vediamo una cosa notiamo questa cosa qui come con il file manager abbiamo uno schema anche qui nell'impostazione dell'aspetto che poi si riconduce a tutto il life motive di elementare os cioè avere un'interfaccia grafica corrente non soltanto tra le applicazioni base ma anche con le applicazioni quelle di terza parte che però si integrano nel sistema il browser web ha lo stesso disposizione del file manager quindi abbiamo le schede messe in basso la barra di navigazione quella lì col percorso in alto abbiamo il pulsante con le impostazioni quello sempre con la rondella per i menu abbiamo sia da una parte che dall'altra quindi lo schema visivo viene riproposto nelle varie applicazioni ed è più facile per le persone utilizzare il sistema operativo utilizzare il desktop environment e questo fa donare a Elementari OS un aspetto un aspetto bello un aspetto grafico coerente andiamo a vedere innanzitutto il nostro sito internet preferito e qui possiamo già vedere che ci sono tre motori di ricerca preimpostati predefiniti ah vediamo quello che ho predefinito quello predefinito è DuckDuckGo che io odio negli ultimi periodi perché non mi fa mai vedere marcosbox.com come primo risultato di tua mi riporta ancora il .org e come primo risultato mi riporta quello del pacco che è il mio sito segreto è il mio sito vetrina mannaggia mannaggia marcosbox.com andiamo direttamente sul sito vediamo come viene renderizzato marcosbox i cookie accettiamo i cookie e qui vedo che c'è anche un blocco delle pubblicità preattivate perché mi sta bloccando la pubblicità NordVPN maledetti ricordatevi di abbonarvi a NordVPN e di sfruttare il mio codice refera qualora fosse interessati ci sono delle offerte incredibili durante questo Blair Friday aperte e chiusa parentesi e qui possiamo vedere come dicevo c'è il blocco della pubblicità andiamo a vedere un po' nelle impostazioni del browser che cosa si può fare questo che serve i tabs aperti ah carina quindi se io facciamo se io metto quello del pacco vedete che se io cerco quello del pacco non mi farei quello del pacco ah voglio farvi vedere maledetto ok e se io clicco così vabbè non guardate le prestazioni perché sono su macchina che ok vi farvi vedere in questa maniera carino figo quasi figo si è bloccato chiudiamo andiamo su questo andiamo nelle impostazioni nel menu del browser web che cosa abbiamo abbiamo zoom stampa ricerca fullscreen e poi abbiamo conoscere andiamo nelle preferenze che cosa c'è di questo browser è possibile ah di default come vedevamo possono bloccare le inserzioni pubblicitari quindi il blocco sia di pubblicità che di finestra di pop up è preattivato su browser nella pagina principale possiamo impostare la pagina più visitata oppure una pagina ruota o una personalizzata tra i motori di ricerca predefiniti troviamo bing duck duck go e google con duck duck go impostato come motore predefinito qui possiamo aggiungerne altri quindi se vogliamo metterci che ne sono ecosia se vogliamo metterci search x quello che volete lo potessimo fare da qui che cosa abbiamo più che possiamo fare possiamo avviare la sessione in incognito ripristinare le schede agavvio gesti del mouse lingua di sistema controllo ortografico developer action non li tocchiamo per niente prevenzione del tracciamento ah ecco c'è la prevenzione dell'intelligente del tracciamento che è preattivata se attiviamo la ricerca su google come vedo possiamo attivare i suggerimenti la ricerca di google pulisci dati siti web puli e cookie dati salvati e quant'altro e questo è della gestione delle password in aspetto che cosa possiamo fare possiamo utilizzare caratteri personalizzati questo è interessante possiamo cambiare i caratteri del browser lo stile utilizzare un fuoco di stile insomma anche in questo caso poche opzioni però messe tutte quelle essenziali che ci possono servire non vi so dire com'è sul lungo utilizzo questo browser però sempre interessante questa è l'applicazione mail non verrà posto vedere in questo momento perché dovrei configurare un account ma non mi va di farvi dei cavoli miei sull'account mail quindi abbiamo comunque un'applicazione di posta integrata con il sistema gestore attività possiamo metterci le nostre programmi e le nostre attività questo che cos'è il calendario anche in questo caso come vedete sempre lo stesso path quindi con i pulsanti con il header bar che non esiste di fatto con la rondellina che ci consente di andare a personalizzare le impostazioni questa altra applicazione che cos'è questo è un lettore musicale quindi hanno anche il lettore musicale sviluppato in casa c'è un lettore video ok e mi piace anche questa cosa che abbiamo pensato di integrare foto è anche un gestore della nostra raccolta di fotografie quindi adesso in questo momento ci ho fatto vedere l'unica presente è andata a pescare quella presente nella cartella immagini immagini che si possa modificare anche questa cosa nelle preferenze e importare le foto in immagini quindi ok possiamo personalizzarla per prendere l'informatore dalla fotocamera c'è anche questa altra cosa che è attivabile ci fa vedere i metadati ci fa vedere i metadati di base e ci fa fare anche un diciamo una modifica riduzione occhi rossi quindi ci sono alcuni effetti di base qui possiamo cambiare l'esposizione e altre cose quindi è anche un editor di base delle immagini questo che cos'è migliora automaticamente l'aspetto delle foto che fa va a modificare lo sfondo predefinito cioè allora che me l'ho messa a fare questo sfondo così se poi la tua intelligenza del software dice che fa schifo quello sfondo vabbè comunque che cosa abbiamo più abbiamo le impostazioni di sistema andiamo nelle impostazioni di sistema e vediamo che cosa c'è abbiamo nella sezione personale applicazioni applicazioni qui ci fa cambiare le applicazioni predefinite quindi se noi abbiamo un altro browser web che vogliamo utilizzare se è un altro vettore multimediale e quant'altro e qui possiamo vedere anche un'altra cosa che anzi mi sono dimenticato di farvi vedere prima perché non è pinnata qua perché non l'avete pinnata qua vedete c'è anche un'applicazione che si chiama codice che è impostata come editor di testi però adesso ve lo faccio vedere sto fatto che non minimizza madonna madroscarusia ecco che non c'è vediamo un attimo di farvi vedere il codice ecco qua codice codice che cos'è praticamente un editor di testi che possiamo utilizzare anche per scrivere il nostro codice quindi se non volete utilizzare vscode vscodium gedit e quant'altro potete utilizzare su elementary os direttamente l'editor di testi integrato che sembra anche fatto bene da qualche solo viene utilizzato anche dagli sviluppatori di elementary os per scrivere il codice per elementary quindi meglio di così cioè trovo che non penso che non abbiano aggiunto le funzionalità quelle più richieste per questo tipo di applicazioni quindi se lo fanno in casa per loro se lo utilizzano loro penso che vada bene per tutti abbiamo anche un visualizzatore di documenti un terminale aspetta prima di andare nelle impostazioni andiamo con odio finiamo la carregata delle applicazioni questo è il terminale anche questo è un terminale che ha un motore del terminale che ha il supporto alle schede che cos'è addirittura si può cercare all'interno di quello che abbiamo fatto del terminale interessante nelle impostazioni abbiamo gli stili di colore detto qua è carino e poi abbiamo il copio e incolla naturale le scorciatore non richiedono il tasto shift potrebbe interferire con l'applicazione in riga di comando l'alerta per gli eventi notifica per invalidi input o multiple ah che interessa anche questa cosa e qui che cosa fa ci fa ah segui lo schema di colori del sistema questo che si fa ci fa ingrandire bello c'è anche lo zoom integrato chissà se funziona con la rotella anche in questo caso no funziona solo se ci clicchiamo da sopra carino questo emulatore terminale e poi abbiamo il visualizzatore di documenti che è un visualizzatore di documenti non c'è nemmeno manco le impostazioni di sto coso vabbè ma andiamo a vedere la ciccia andiamo a vedere le impostazioni di sistema le impostazioni di sistema come dicevo nella sezione personale applicazioni possiamo andare a cambiare le impostazioni delle applicazioni predefinite applicazioni di avvio possiamo mettere applicazioni aggiungere applicazioni in avvio automatico e qui poi troviamo anche vediamo se ve lo agargo un po' troviamo qui le varie applicazioni di sistema preinstallate e qui possiamo andare a gestire i permessi delle varie applicazioni ad esempio che ne so il visualizzatore di documenti gli possiamo andare a dare le impostazioni per la stampa i gestioni i permessi per la stampa ecco esempio perché ho visualizzato i documenti non ci sono i permessi per gestire la stampa forse è una cosa che viene fatta appena si stampa il primo documento immagino che sia così e qui di tutte quante le applicazioni come potete vedere possiamo andare a dare i vari permessi troviamo quelli preimpostati predefiniti che sono stati scelti dal team di elementari ad esempio camera accesso alla camera all'accelerazione gpu che mi sembra anche giusto lingua e regione vediamo che cosa c'è qua sotto lingua e regione possiamo andare a modificare le impostazioni linguistiche e poi aggiungere nuove lingue il supporto linguistico non è installato completamente che cosa fa questo 1 2 3 4 ci va a installare la lingua mancante quindi possiamo vedere anche come si comporta con i pop up è spostabile questo ottimo quindi in questo caso andiamo a installare i pacchetti aggiuntivi non ci ho notificato niente mi sarei aspettato una notifica per la fine dell'installazione vabbè notifiche allora qui che cosa possiamo vedere possiamo vedere che delle varie applicazioni che noi abbiamo installato che hanno l'accesso diciamo così alle notifiche possiamo andare a personalizzare ad esempio l'app center possiamo dire di mostrare una notifica del pop up quella che abbiamo visto prima appena avviato il sistema se riprodurre una notifica sonora o se lasciare le notifiche perse nel centro delle notifiche e questo lo possiamo impostare per le varie applicazioni che troviamo presenti qui abbiamo l'app center il network manager le attività il calendario gli eventi il file manager il file roller che serve per la gestione di file compressi musica posta side road che serve per caricare le applicazioni di terza parte di flat pack e altro quindi anche in questo caso possiamo andare a personalizzare il comportamento delle notifiche delle applicazioni mi aspetto che magari se andremo in star in search un firefox possiamo fare la stessa cosa anche per lui ma poi lo vedremo successivamente magari scrivania qui possiamo cambiare gli sfondi quello predefinito è carino mettiamo qualche cosa in più questo questo è presente da diverso tempo questo qua mi ricordo già questo sfondo pure questo qua mi ricordo ma questo qua è carino tengo questo dovendo l'installazione ah no rimettiamo questo forse perché se no ancora poi vedete che cosa sta succedendo se iniziate ad andare verso la fine del video e vi disorienta aspetto aspetto qui quindi possiamo scegliere tra i termi predefiniti e quella scura che abbiamo visto prima wallpaper che si adatta al tema scuro si sta impagando tutto è meglio che non lo clicco più forse devo attivare prima il tema scuro ok si quindi va a dimmerare la luminosità qui possiamo fare impostare l'oreo programmato per cambiare il tema gli accenti che abbiamo visto prima all'inizio quindi possiamo cambiare gli accenti di sistema reduce motion questo è possibile disabilitare le animazioni nel windows manager e nelle altre applicazioni e qui è possibile scegliere se visualizzare sempre la scroll bar testo qui sono le dimensioni del testo e ci cambia subito il testo da qui che poi abbiamo visto anche da questa da questa da questa schermata e qui però vediamo anche un'altra delle cose interessanti di questa di questo ambiente desktop l'avevamo visto prima prima abbiamo visto l'integrazione con Orca qui vediamo un'altra cosa che è l'integrazione per quanto riguarda gli strumenti per la dislessia qui possiamo attivare un'opzione che ci consente di cambiare i fondi di sistema per essere più facilmente legibili da persone affette da dislessia e ci va a cambiare i caratteri quindi immagino che per chi soffre di dislessia questo tipo di fonte sia una manna dal cielo fatemi sapere voi se avete esperienze in merito se se una cosa del genere può o meno aiutare immagino di sì perché hanno fatto degli studi e si sono affidati a degli esperti prima di integrare una cosa del genere dock e panel allora qui come ci lascia proseggere il nome possiamo impostare e modificare il comportamento della dock che è in basso e del pannello superiore qui le dimensioni della dock la possiamo rimpicciolire o ingrandire addirittura il comportamento del nascondimento automatico della dock che possiamo impostare come preferiamo noi panel translucency quindi qui immagino che va a cambiare ok il comportamento del pannello superiore perché di default vi faccio dei default che è trasparente quando massimizziamo diventa scuro diventa nero se lo vogliamo sempre nero fondiamo questa opzione e diventa sempre nero mostra nel pannello accessibilità quindi qui possiamo nascondere eventualmente gli strumenti di accessibilità ok dal pannello caps lock se attivo il caps lock ok vediamo l'iconcina num lock vediamo un po' è preattivo perché lo tengo sempre attivo però vedete possiamo attivare l'iconcina ed è utile se voi non avete la tastiera quella al 100% e volete subito vedere se sta attivato il caps lock o il num lock interessante anzi num lock lo vedete se avete il tastiere non o mai ho detto una mezza castroneria multitasking oh qui possiamo impostare le scorciatoie quindi scusa a meglio gli angoli attivi che noi possiamo attivare gli angoli per andare attivare qualche cosa che ne so massimizzare le finestre se ci spostiamo da questa parte immagino che ci sia qualche problema per via della macchina virtuale non funziona per questo o forse deve essere fatto riavvio vabbè comunque ci sono e possiamo avere tutte queste opzioni che vedete a schermo sicurezza e privacy la cronologia delle applicazioni blocco impostazione e firewall manutenzione quella cosa che abbiamo visto prima per cancellare i file qui possiamo addirittura scegliere ogni quanti giorni di default e 30 giorni in servizi localizzazioni che sono preabilitati nella gestione dell'alimentazione possiamo attivare impostazioni per lo spegnimento del display ogni quanti minuti quelli predefiniti 15 e abbiamo anche il taglio di 1 e 2 ore cosa che su altri desktop environment non troviamo il comportamento del pulsante di alimentazione e la sospensione quando inattivo per scegliamo noi quando attivare nella power mode bellissime queste icone che sono state messe per la power mode e c'è quello bilanciato con lo yin e yang fatto con la foglia verde e la foglia rossa con il coso verde e il coso rosso tipo insomma ci fa capire subito e la power saver con la fogliettina bella mouse e nella sezione mouse e touchpad qui possiamo impostare la gestione del mouse quindi doppio clic i clic lunghi clic quello mid la dimensione dei puntatori rivela ponte oh figa questa cosa qua ok che dice di premere control ecco vedi questa è una cosa interessante che tu hai già all'interno del sistema anche questa cosa per trovare il puntatore del mouse io spesso quando uno mi so c'ha 50.000 cosa schermo oppure quando si va avanti con l'età avere una cosina del genere è utile oppure control pointer using kpad questo disabilitare in trame di tasti del tassellino numerico quindi si possono attivare anche questa cosa questi sono i gesti gesti che vi dico subito non posso provare perché sto su un computer desktop però mi dicono dalla regia mi dicono quelli che hanno provato elementari nel corso degli anni che i gesti di elementari OS sono praticamente alla macOS style quindi sono davvero fatti bene qui possiamo vedere i touchpad natural scrolling i multitouch le aree insomma dicono chi l'ha provato che sono fatti benissimo se ve lo installate elementari su vostro computer portatica fatemi sapere gestione schermi quindi schermi in questo caso c'è solo uno luce notturna che abbiamo visto prima che si può attivare si può anche personalizzare e i filtri che immagino sia per chi ha problemi nella visualizzazione dei colori anche questa cosa è stata aggiunta quindi se io metto red green ad alto contrasto mi cambia la saturazione dei colori dell'intero dell'intero schermo bella questa cosa che ci hanno pensato sempre questi strumenti che vi dicevo sono per l'accessibilità per l'inclusività dell'utilizzo del sistema operativo per chi ha problemi scala di rigi pure questo carino non cambia subito però è bello beh 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 mi piace questa cosa qua stampanti in questo caso non mi fiorò la stampante perché sono su macchine virtuali suoni riproduci i suoni di alerta test altoparlanti ah qui possiamo sempre attivare lo screen reader lettore schermo attivo lettore schermo di attivato lo possiamo attivare da là lo possiamo attivare dall'impostazione appena installiamo dispositivi di ingresso quindi in questo caso il microfono le applicazioni nessuna applicazione sta mettendo suoni quindi qua andiamo a poter gestire le applicazioni tastiera sono le disposizioni della tastiera metodo di inserimento le varie scorciatoie che sono preimpostate qui le trovate già tutte quante vi ho utilizzato il simbolo command vi ho utilizzato il simbolo super cioè il simbolo di mac quello che è presente sulle tastiere dei mac per il per il tasto super il tasto windows come lo volete chiamare quindi è quello quando vedete questo simboletto comportamento qui possiamo attivare la tastiera schermo e altre cosine per la gestione della tastiera Wacom se avete una tastiera come si chiama un dispositivo Wacom gli account line li abbiamo visti prima che si possono aggiungere bluetooth e la gestione dei dispositivi bluetooth e il pairing dei dispositivi condivisione potessimo attivare la condivisione di delle cartelle dei media e gestire la condivisione del bluetooth tramite bluetooth rete sono le impostazioni di rete la VPN proxy insomma le cose base per la gestione della rete account utente qui possiamo andare a personalizzare il nostro account attivare il login automatico cambiare il concino cambiare il nome e insomma le cosine base vedo poi anche ci sta la sessione ospite che si può abilitare questa è interessante possiamo abilitare una sessione ospite che permette a qualcuno di utilizzare un account temporaneo predefinito senza una password bella questa cosa qua se vogliamo lasciare il computer a qualcuno per utilizzare abilitiamo la sessione ospite e lo facciamo vi facciamo utilizzare il nostro computer senza il pericolo dove va a spiare i nostri file segreti date e ora il comportamento della data e d'ora quindi possiamo anche visualizzare i secondi il numero della settimana abbiamo questo nel calendario e poi che cosa abbiamo più sistema qui ci fa vedere gli aggiornamenti in questo caso che dice ci sono degli aggiornamenti ecco gli aggiornamenti e qui possiamo anche aggiornare il sistema così ce li scarica e qui il pop up qui l'hardware il firmware la gestione di eventuali firmware e la gestione dei driver proprietari che sono nelle impostazioni e poi tempo di utilizzo e limitazioni ah questo è il parental control integrato all'interno di Pantheon sono cose che io odio devo essere sincero perché non condivido questi tipi di strumenti però per chi è attento per chi vuole queste cose all'interno del sistema operativo l'è tutto bello integrato e passiamo adesso all'app center vediamo come si comportano l'installazione delle applicazioni e quali sono allora l'app center vi fa vedere innanzitutto le varie categorie di applicazioni quindi accessori che ne so installiamoci qualche cosa di presente all'interno del sta cercando gli aggiornamenti nel frattempo facciamo una cosa facciamo una cosa più intelligente io voglio installare che ne so audacity no audacity audacity non lo trovo all'interno all'interno dell'app store però mi dice che è possibile effettuare il side log scusate dell'applicazione in formato flat pack faricandola da flat quindi mi si apre cliccando qui la pagina immagino si di flat tab dove è possibile scaricarci audacity quindi noi ci scarichiamo il nostro bel pacchetto in formato flat pack flat pack ref e qui possiamo fare il side load dell'applicazione ok compare questo messaggio che non è spostabile ah ecco lo possiamo spostare cliccando sullo scudo e partiamoci avanti e facciamo anche un'altra cosina e se io voglio scaricarmi prendo google chrome perché è la prima cosa che mi viene in mente con il formato deb voglio vedere come si comporta con i pacchetti in formato deb e mi vado a scaricare i deb di google chrome scarica voglio vedere se se c'è qualche strumento tipo ah in passato c'era deb no deb si chiama che si chiama che praticamente lo trovate anche su su come si chiama stanno a fare il side load qua minchia lo trovavate e questo chrome non me lo scarico ecco mamma lo sta scaricando dicevo c'era un'applicazione chiamata debby eddy o debby o my god che serviva per l'installazione dei pacchetti in formato deb vediamo se l'hanno mantenuta perché sulla precedente versione mi sembra che eravano già rimosse sulla precedente versione di elementare speriamo che l'hanno lasciata perché altrimenti mi sa che ci saranno problemi non mi piace questa cosa vedete dell'installazione dei pacchetti andiamo non è che si è impallato forse allora se io chiudo e riapro vediamo che succede poi rilanciamo l'installazione ok si era semplicemente impallato ecco ecco vedete questa è una cosa che non mi piace tanto perché io adesso sto andando a installare allora vi spiego come funziona perché prima ho visto ho fatto una prova voi potete installare come vi dicevo le applicazioni in formato flat pack da flat tab però dovete abilitarlo per la prima volta flat tab non c'è un'opzione all'interno dello store per scaricare direttamente l'applicazione in formato flat pack da flat tab quindi dovete fare la prima volta vi dovete scaricare un applicativo in formato flat pack dallo sito di flat tab installare tramite side load l'applicativo quindi accettare questa finestra che vi viene fuori vedete che vi dice sei sicuro di fare tutto sto casino installa comunque vedete in rosso è pericoloso i segnali visivi che sono stati dati con i colori ma avvisa io non lo farei se fossi se vuoi se devi farlo farlo pure visto come il meme che va girando che va girando su internet quindi qui noi che cosa facciamo ci installiamo un pacchetto in formato flat pack da flat tab tramite il side load una volta che abbiamo fatto questa operazione all'interno dell'app center dell'app store come si chiama si chiama app center troveremo poi l'applicazione in formato flat pack da flat tab è una scemaggine questa che avrebbero potuto gestire diversamente però vabbè avrei preferito un cosino che mi dice attivi subito flat tab invece non l'hanno fatto e vi faccio vedere adesso questo abbiamo scaricato un pacchetto in formato dev lo vogliamo installare sorpresa delle sorprese non abbiamo nessun programma per installare applicazioni in formato dev autosvbox quindi se noi ci andiamo a scaricare google chrome vivaldi i driver per la nostra stampante nel caso mio che utilizzo una stampante brother e vogliamo installare doppio clic non potremo fare perché c'è questo comportamento questa la trovo una cosa scema così come trovo scemo questo comportamento per l'installazione delle applicazioni in formato formato flat pack da flat tab avrebbero dovuto mettere in questo caso un selettore per flat pack e un selettore attivo al flat tab così uno si leva subito il pensiero e finisce la storia oppure magari questa applicazione non è nei sistemi vuoi abilitare flat tab cosa molto più intelligente e pur sta cosa qua che non hanno messo nessuna applicazione predefinita per installare i pacchetti in formato deb la trovo una sceamagine colossale quindi un tento a reprimiarmi dice che devo fare quindi posso fare niente non c'ho niente per installare il pacchetto che devo fare è scema sta cosa non lo so io la trovo scemi sceamotto proprio sceamotto sta cosa e vabbè vabbè vediamo si sta se c'è eddy 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 non c'è più eddy c'è ancora 5 log che facciva da upsetter vedete qui è possibile allora questa è un'altra delle caratteristiche del di elementare os che mi sono dimenticato di citare all'inizio del video ed è elementare os viene rilasciato come sistema di finanziamento pay paga quanto vuoi cioè al momento dello scaricamento del riso sul sito di elementare os noi abbiamo un selettore che ci chiede quanto vuoi dare per scaricare l'iso possiamo mettere anche 0 e scaricare l'iso la stessa cosa può accade anche per le applicazioni quelle fatte per elementare os come potete vedere qui che sta scritto presenti nello store cioè quelle applicazioni che sono state sviluppate da sviluppatori di terze parti ma che rispettano appieno le linee guida degli sviluppi di elementare os quindi sono applicazioni che sono presenti sullo store di elementare os e che sono perfettamente compatibili con il sistema quindi hanno i pulsanti in quella posizione le impostazioni gestite in quel modo e si indicano perfettamente col sistema elementare da la possibilità anche agli sviluppatori di terze parti di guadagnare in questa maniera e quindi per esempio in questo caso volete installare eddy che è il programma che serve per poter installare i pacchetti in formato deb vi dice io ti consiglio di dare 5 dollari allo sviluppatore però volendo ci mettiamo 0 dollari e dovrebbe andare ecco qua try it for free e ci andiamo a installare ugualmente l'applicazione nel frattempo possiamo vedere anche un'altra cosa in questo caso che l'app center ci fa vedere per ogni applicazione delle informazioni ci dice che con una ragnatello ci fa vedere che questo è non viene aggiornato da parecchio questa applicazione quindi occio se la stai installando sullo sistema ci avvisa però che è un'applicazione fatta per elementary OS quindi si integra nel sistema nei strumenti privacy e tutto il resto ci dice che potrebbero essere non tradotte nella lingua e ci dice che cosa può avere accesso può avere accesso alla cartella home in questo caso dove ci sono i nostri documenti ci sarà quello che vogliamo scaricare che abbiamo scaricato musica picture e quant'altro vi faccio vedere che adesso ah manca adesso però se io vi dico di andare a impostare eddy per l'installazione ecco qua funziona quindi eddy funziona eddy ancora vive gotta assieme a noi su elementary OS potevano pre-installarlo ok bug questo che si è sblocato lì qua potevano pre-installarlo eh si sono un po' hanno fatto un po' una cosa bruttina così una cosa scemotta ripeto per me è scemotta questa cosa dovevano integrarla vediamo l'ultima cosa dell'upcenter questo tastino che ci dice che ci sono degli aggiornamenti da fare che però è ancora in freeze non finirà non finirà mai si sbloccherà fa mezz'ora 30 minuti 40 minuti ah no no si è sbloccato ok ok vedi mi sono smentito in diretta come potete vedere qui ci fa vedere vabbè ci dà la lista delle applicazioni né più né meno e adesso si è abilitato il tastino le impostazioni che ci tratta soltanto aggiornamenti automatici e poi check controlla per gli aggiornamenti vedete c'è un postantino qui mettevi l'opzione per integrare il flat tab e tenevi contenti tutti invece no non l'hanno voluto fare vabbè scemotti è tornato un altro aggiornamento vabbè vediamo se riusciamo a finire di installare unacity così vi faccio vedere anche quella cosa che vi dicevo prima cioè il fatto che una volta installata la prima applicazione della flat tab poi cominciano ad apparire all'interno dell'app dell'app center le applicazioni presenti su flat tab vi ripeto queste due cose le avrei modificate comunque scelte progettuali vabbè nel frattempo vabbè filatevi sulla parola ci sta mettendo troppo tempo per i miei gusti per installare il tutto quindi filatevi sulla parola funziona funziona così torniamo su marcos manco il sito mio se lo scrive marcosbox.com per i saluti finali per le conclusioni allora che dire io ho questa distribuzione all'interno e adesso gli do un bel 7 gli do un 7 perché si vede che ci tengono si vede che ci sono impegnati nella realizzazione di questa distribuzione e non gli do un voto più alto perché ci sono queste cose sceme perché avrebbero potuto fare diversamente essere meno meno tarati su su questi elementi si rientra nell'idea loro di offrire un sistema sicuro out of the box perché di fatto se noi andiamo a installare applicazioni desktop alternativi se noi andiamo a scaricare deb in giro per i web si è è una cosa un po' poco sicura diciamo così però è una cosa che facciamo largamente è che su linux è la prassi e poi diciamoci gli utenti linux non sono cretinauti che vanno a installare porcate sono utenti attenti quindi vanno a scaricare le cose come si deve chi prova un sistema operativo linux è già un utente un po' più avanzato non è un utente che può far del male a se stesso diciamo così oddio qualche volta uno si fa male a se stesso però sono persone come me che soffrono di distropping e vi dicevo da un bel set un bel set di incoraggiamento anche perché hanno tanta di quell'attenzione non soltanto a livello grafico a livello grafico ci sta può piacere o non piacere il sistema operativo può piacere o non piacere la disposizione il comportamento delle finestre e quant'altro però ci tengono agli strumenti di accessibilità e questa cosa mi piace mi piace che è tutto integrato all'interno dei sistemi ed è così che dovrebbero essere i desktop environment per me questa cosa andrebbe copiata da tutti quanti e che dire un'altra vita e prosperità a tutti quanti e ci rivediamo con il prossimo video con la prossima puntata con la prossima video recensione con la prossima puntata del podcast di Marcos Box ciao ciao Grazie a tutti.